A conclusione di una complessa attività di indagine sulla tratta di esseri umani, lo sfruttamento, il favoreggiamento della prostituzione, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina condotta da Scuola Mobile di Teramo, diretta dal vicequestore Roberta Cicchetti con il coordinamento della procura distrittuale dell'Aquila con i sostituti procuratori David Mancini e Stefano Giovagnoni, sono state eseguite da questa mattina 6 misure cautelari emesse dal GIP dell'Aquila nei confronti di 6 persone di cui 4 donne nigeriane in carcere alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino italiano. Ancora da eseguire una quinta misura applicativa della custodia cautelare in carcere per i reati di tratta, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione a carico di una donna nigeriana al momento irreperibile. Il destinatario italiano della misura degli arresti domiciliari per favoreggiamento della prostituzione è Gerardo Di Sabatino, terramano di 62 anni, rispettivamente proprietario e comproprietario di due degli appartamenti di dimora di giovani prostitute nigeriane. Le indagini corredate da attività tecniche sono state avviate dalla Scuola Mobile di Teramo monitorando costantemente la zona della strada della Bonifica del Tronto allo scopo di interrompere il costante flusso di giovanissime donne nigeriane reclutate in patria con la promessa di un lavoro in Europa e poi fatte giungere cladestinamente attraverso disperati viaggi lungo la rotta mediterranea. Previa sottoposizione a Riti V2, a garanzie del pagamento del debito per il viaggio da 25.000-30.000 euro e una volta arrivate in Italia costrette con violenza, minacce con la dirompente forza intimidatrice dei suddetti riti a prostituirsi consegnando i proventi a chi le aveva reclutate in patria e i loro referenti in Italia. Nel corso dell'attività investigativa sono state individuate e identificate ben 12 giovani vittime dimoranti in 5 appartamenti di cui 4 a Martinsicuro e 1 a Montsampalo del Tronto affittate dai rispettivi proprietari alle loro connazionali destinatari delle predette misure cautelari in carcere. L'operazione Subjection ha avuto come obiettivo quello di colpire l'ingranaggio al fine di impedirne il funzionamento del noto meccanismo del reclutamento in patria da parte di connazionali di giovani donne nigeriane poi condotte in Italia con la promessa di un lavoro e di un futuro migliore ma poi in realtà costrette a prostituirsi per consegnare alla madame che l'ha reclutata in patria e alla referente nigeriana in Italia dell'organizzazione i proventi della prostituzione per pagarsi il debito contratto con il viaggio che va da una somma di 25.000 a 30.000 euro.